Noi clicchiamo su gioca, però ce lo siamo già spoilerati, ma voi non dovete perdervi questa... Quindi... eh? Noi abbiamo il volume A4, succede. È potentissimo. Puttano, eh, sì. È il volume più alto che abbia mai visto in un video... beh, ascoltato. In un videogioco. Mh, il problema è che non si capisce un cazzo perché in giriglio... Eh, prendi... Ma le facce? Ma sei sicuro che lo possiamo fare per questo gameplay o ci bombardano? Ma io che cazzo ne so, non gioco questa su Steam. Ma sono... Sembrano spezzati a metà. Omosessuati. Perché? No, sono asessuati. Sono desessuati. Desessuati. Sono donosessuati. A questo punto nelle mani chiuse c'è una minchia. F, F. Ah, F per prostarsi. Quindi? Egnale, mi sto prostrando a Putin. Forse è quello che dovevi fare, vedi? Cioè, stare attento al culo di quello davanti. Di pannella. Che cazzo... È un dirigibile. Ma che cazzo mi so cagato sotto! La telecamera! La telecamera che l'abbiamo sotto a me! Mi giuro, mi so cagato sotto! 1984! Ah, ma vedi! Che cazzo beve questo? Guarda quello che cos'è! Cioè, con uno... Un tasto bevi col bicchiere e l'altro dovresti mettere la vodka nel bicchiere. Scusa, rialza un attimo la bottiglia. Guarda, basta fare così. Sì, no, fammi vedere proprio la bottiglia. Adesso bevo, eh. E il prossimo è così. Qua mi piace molto la rifrazione. Guarda il vetro quanto è bello. Tanto bevo, eh. Secondo me anche questo si dovrà fare per dieci volte. Ma che cazzo? Ma che cazzo è? Ma che stiamo a guardare? Oddio, posso muovermi? I'm on. Raga, è una merda, però è affascinante. Cioè, non ne avrei mai abbastanza di un gioco così. Ma c'è un altro orso. Io sono esterefatto, ti posso dire la verità? Ma forse capendo la lingua... Cioè, il fatto che non ci capiamo un cazzo, capito? Ho premuto E. E sono andato in un posto nel... Perché quindi in Russia hanno il sottoscala fatto così. Ma credo di essere andato nell'armadio, sai? Raga, è un mindfa... People little shit. Ma che è? Io credo che abbiamo scoperto una cosa segreta, eh. Sleepnut. People little shit. A me sto gioco mi mette in quietudine. Ma veramente che stiamo affatto sul cazzo? Ma che cos'è? Guarda la schiena dell'orso. È come se fosse un po' speculare. Io credo che noi negli anni 90 ci saremmo divertiti molto con questo gioco. Ma che cazzo stai dicendo? È un open world. Ma che cazzo stai a dire? Ma che cazzo ti sei fumato? Io mi sarei divertito con un marco. Ma fa che? È andare in giro. Madonna però, questo angolo, come ben curato. Secondo me qua c'è scritto una cosa importantissima. Eh, ma noi non la possiamo sapere. Dovevo entrarci anch'io, capito? Gli bambini che si vedono accapate. Cosa vuoi? Se vuoi andare in Russia? Sicuro? Eh, ma se è così, cioè ci avvalcano gli orsi. Io penso che me ne posso andare con l'alcol. Cioè l'idea era uscire per andare a comprare l'alcol e giustamente il tuo mezzo di trasporto è un orso che beve anch'esso andiamo per il mercatino c'è il telefono oh vedi ci sono dialoghi digli così esatto un po' di... melone melone la vodka melone è buona ma non è che forse mi ha detto che dove andrà a fare la spesa ora posso tornare a casa forse ragazzi io direi che il gioco promette bene ce la facciamo una serie? una bella serie di 15-20 episodi la volete? comunque ragazzi russi.a simulator so che state tutti là pronti con la carta dello zio pep a comprare alla prossima